Non solo mimose, ma emancipazione e cultura del benessere. Va in questa direzione l'impegno di Fisioradi Medical Center in occasione della Festa della Donna. Un impegno che si traduce nel voler riempire di contributi concreti verso la femminilità una ricorrenza troppo spesso svuotata di significati. Contributi in ambito sanitario con due appuntamenti in cui parlare apertamente delle problematiche del pavimento pelvico, liberandole da un pericoloso tabù di silenzio. Noi vogliamo essere vicino con questo evento, con questi eventi che facciamo dove oggi possiamo dire che c'è stata un'emancipazione importante per la donna da un punto di vista generale, ma ancora di più anche da un punto di vista medico. Quindi affrontare delle problematiche, dei tabù che ancora sono presenti nelle donne e addirittura non mettere alla luce del sole delle problematiche che invece possono migliorare la vita della donna. Dopo il sold out del primo appuntamento di ieri sera si replicherà il 25 marzo alle 20.30 presso Fisioradi Medical Center per affrontare temi quali incontinenza, dolori durante i rapporti sessuali e altri disturbi da esaminare attraverso fisioterapia ma soprattutto attraverso la prevenzione. La prevenzione ovviamente è uno dei nostri obiettivi anche se ad oggi purtroppo viene sottovalutata è però importante sottolinearne l'importanza. Riuscire a prevenire l'incidenza di queste problematiche sicuramente potrebbe aiutarci tantissimo ad alzare la qualità di vita e prevenire eventuali problematiche. Sono già aperte le iscrizioni per l'appuntamento gratuito del 25 marzo in cui affrontare temi trasversali ad un'ampia demografia femminile. Nel mondo ne soffrono 28 milioni di donne, questo di problematiche in generale sul pavimento pelvico. In Italia parliamo di una donna su quattro. Di queste una donna su sette soffre di dolore pelvico persistente quindi che perdura da mesi e molto spesso di stampo neurologico che limita tantissimo la qualità di vita della persona. Le statistiche che abbiamo di incidenza di queste problematiche sono altamente sottovalutate. Questo perché rappresentando questo argomento un tabù nella nostra società molte persone non si rivolgono ancora agli specialisti del settore come ad esempio ginecologi o fisioterapisti. Per questo che abbiamo scelto questo periodo proprio per portare alla luce di tutti quello che oggi una donna può avere anche da un punto di vista medico da un punto di vista di miglioramento della propria salute e del proprio benessere con questi tipi di trattamento e soprattutto con la presa di coscienza di cosa ci può essere oggi per aiutare una donna e quindi per noi questa è un'informazione che deve formare le donne e perché più donne sono formate più donne possono poi informare altre donne.